eccoci qua belli siete buongiorno ragazzi buongiorno a tutti buon mercoledio a tutti bentornati qua sul canale dal vostro amico night un nuovo video per voi qua nella casa del pane balloon allora ragazzi oggi si entra un po nel vivo della quindicesima giornata ieri se si è aperta con le quattro partite di ieri con l'atalanta che ha fatto praticamente affette il il venezia con la fiorentina che ha giocato una gran bella partita nonostante sia passata in svantaggio poi ha avuto reagire subito e l'ha chiusa subito nel primo tempo vincendo con la sandoria e la juventus ieri sera e verona cagliari le due partite sarali a differenza di quelle pomeriggia ne sono state molto molto più noiose la juve ok ha vinto l'unica cosa di positivo è che porta a casa i tre punti ma è stata una partita noiosissima tanto quanto quella del verona contro il cagliari uno 0 a 0 da da classica partita noiosa ecco detto questo ragazzi tuffiamoci tuffiamoci con il clou del campionato che arriva oggi fatemi prima ricordare una cosa raga iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti ragazzi fatelo continuate a farlo grazie di cuore perché ho avuto un sacco di iscritti in questi giorni perciò continuiamo ad allargare sempre di più questa community perché è molto 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 bella e interessante soprattutto detto questo ragazzi non posso non dirvi che se vi è piaciuto il video mettete un bel like così lo supportate e condividetelo con altre persone bene ragazzi partiamo partiamo oggi oggi pomeriggio ci sarà inter spezia e bologna roma e insomma due belle partite belle insomma bologna roma è una bella partita perché il bologna quest'anno è veramente una squadra difficile da affrontare sta facendo degli ottimi risultati Mijalovic ha messo giù una squadra bella tosta oggi il bologna è bello tosto da affrontare e per questa roma che è vero che ha una una qualità esagerata davanti perché a me piace molto l'attacco della roma con quei tre lì però nel gioco fa fatica è un po' troppo fa fatica dietro dietro fa molta fatica poi gli mancherà sicuramente il capitano pellegrini insomma sarà difficile sarà una partita molto difficile per la roma perché questo bologna gioca veramente bene poi gioca in casa non sarà non sarà una partita semplice mentre l'altra partita inter spezia voglio dire adesso va bene gli infortuni che adesso all'inter gli mancherà d'armian e ranocchia che era il sostituto di devrai vabbè a posto di darmian si mette danfris ranocchia a posto di ranocchia metterà sposteranno bastoni e d'ambrosio giocherà a posto di bastoni perché poi d'ambrosio a me non dispiace come come primo cambio è uno d'utile lo mette a destra lo mette a sinistra comunque cerca sempre di fare il suo e poi quando gioca d'ambrosio è sempre lì davanti il collettino fastidioso te lo viene a fare perciò poi detto questo ragazzi è inter spezia insomma io non penso ci siano grossi ostacoli per oggi pomeriggio per l'inter vedremo vedremo come andrà a finire poi stasera ci sarà sassuolo napoli quella gran bella partita e genoa milan genoa milan sassuolo partiamo sassuolo napoli sassuolo napoli ragazzi il napoli visto contro la lazio fa paura a chiunque perciò non ci sono sassuoli che tengono però ragazzi sassuolo abbiamo visto come ha giocato contro il milan perché è vero che il milan ha sbagliato la partita però bisogna anche dare merito agli avversari il sassuolo ha fatto una gran partita è venuto a palleggiarti in faccia e adesso si può anche dire sì la testa era ancora la partita con l'atletico quell'altro era di qua quell'altra di là bisogna dare atto che il sassuolo ha fatto una gran partita e e con le grandi fa sempre una gran partita perché ricordiamoci che il sassuolo è andato a vincere anche a torino contro la juve è venuto a vincere qua san sio col milan insomma domani gioca cioè domani scusate stasera gioca con napoli in casa è una partita di cartello sì l'unica cosa si può far sentire il fatto che subito dopo tre giorni sassuolo non ha magari questi cambi da poter far girare però insomma e sono queste partite queste partite sì per una volta puoi anche fare lo sforzo e cercare di dare il massimo io dico che sarà molto molto difficile detto questo però se il napoli gioca come contro la lazio ragazzi c'è poco da fare mentre genua milan ragazzi adesso faremo anche le nostre formazioni genua milan ragazzi cosa dire la partita più semplice per quelle che stanno lì in alto no perciò il milan ce l'ha più agevole come partita detto questo però ragazzi arriva da un punto in tre partite perciò devi devi cercare di giocarti la partita senza senza strizza perché se no rischi veramente rischi veramente di buttare via perché guardate la talanta ragazzi è a un punto se tu domani non vi c'è la talanta era neanche 15 giorni fa era a 12 punti di distacco adesso in realtà un punto è vero tu hai una partita in meno però se vinci ritorni a 4 ma ti ha recuperato 8 punti insomma bisogna vincere assolutissimamente perché sennò banifichi tutto quello che hai fatto le prime 12 giornate detto questo ragazzi arriviamo alla formazione la formazione del milan ci sono un sacco di cambiamenti si torna un po la formazione titolare megnani in porta a destra calulu secondo me giocherà calulu perché non ho visto bene florenzi non mi è piaciuto calulu da da molto più sicurezza se in fase difensiva e poi comunque uno che propone chiar tomori in mezzo rientra il nostro tomori meno male perché abbiamo subito troppi troppi gol sette gol in due partite sono tanti con chi era bene in mezzo teo a sinistra a centrocampo si ritorna al centrocampo titolare che che se ne dica il centrocampo titolare di questo milan tonali che si perciò meno male che si torna alla titolarità poi magari mi smentiranno farà una partita di merda stasera ma dubito perché questo è un grande centrocampo e del centrocampo titolare di questa squadra tonali che si davanti se le maker con diaz come trequartista le hao a sinistra e bremo vicino avanti insomma bisogna cercare di chiudere la partita io a me piacerebbe per una volta chiudere la partita dopo dieci minuti come ha fatto l'atalanta o come fanno le grandi squadre si deve chiudere la partita dopo dieci minuti un quarto d'ora che non me ne voglio a genoa io adoro uscire cienco tutto quello che va dalla prossima però adesso bisogna chiudere la partita dopo dieci dodici minuti chiude 2 bar 3 a 0 e cercare di passare una serata bella tranquilla perché sennò inizia il fegato a diventare a ingrossarsi ma no ma più che altro anche per loro per i ragazzi almeno la giochi un po più serenamente se tu invece se poi inizia a passare il tempo a passare troppo tempo e vedi che non riesci diventa ti viene quella cosa addosso poi i risultati non arrivano nelle ultime tre non sono arrivati inizia magari a venirti quella cosa lì che ti stai a cagando addosso invece no no bisogna cercare di chiuderla viverla un po più serenamente la partita per poi approcciarsi bene alla prossima perché giocherai un'altra partita contro la salernitana ultima in classifica anche lei insomma dai cerchiamo di riprenderci e basta dai bene ragazzi allora ci vediamo oggi così commenti che commenteremo sicuramente la partita dell'inter e quella di tra bologna roma e poi stasera con la live del milan e tutti i vari commenti ragazzi vi auguro una buona giornata se vi è piaciuto il video mettete un bel like come dico sempre condividete e come dico sempre io ragazzi ciao